Cari ascoltatori di Radio Fuggino Nair, bentornati per un nuovo piccante approfondimento. Parliamo dello scontro tra Marco Travaio e Beppe Grillo, uno scontro che si accende a otto e mezzo questa sera in cui Marco Travaio era ospite, oggi 26 novembre 2024. Travaio con la sua proverbiale schiettezza, che stavolta diciamocelo ha un po' sbavato nell'acido, ha definito Grillo un fenomeno senile molto triste. Ora amici riflettiamo, quando un giornalista del calibro di Travaio, che per anni è stato un osservatore acuto, super partes, sceglie di mettersi la maglia di tifoso invece che quella di arbitro, non è che tradisce un po' il suo mestiere? Travaio ha detto che Grillo ha perso lucidità, non lo capisce più nessuno e che è stato mandato a quel paese da due terzi degli iscritti votanti del Movimento. E già perché nel referendum interno al Movimento 5 Stelle, sul doppio mandato, la maggioranza ha detto no al principio cardine voluto da Grillo e ha detto no a Grillo stesso come garante. Eppure cari amici, qui la situazione è un po' più complessa. Travaio da giornalista dovrebbe avere il compito di spiegare, di analizzare e non di buttarsi nel fango, sparare giudizi personali come se fosse al bar. Altrimenti dove finisce il giornalismo e dove inizia la propaganda. Noi facciamo una cosa diversa, facciamo un podcast. Proprio questa è la caratteristica, quella di dire ciò che pensiamo e ascoltare le vostre opinioni, confrontarci. La vera domanda è questa. Perché Grillo non dovrebbe difendere la sua visione del Movimento utilizzando tutti i mezzi che ha a disposizione? Tanto che sappiamo si rifaranno le votazioni perché aveva il diritto di chiedere di votare di nuovo e questo diritto deve essere accolto. Per cui ci saranno di nuovo le votazioni per quanto riguarda quei punti che vanno a toccare lo statuto come la sua figura di garante. Parliamo dell'uomo che ha dato vita al Movimento 5 Stelle, l'ha portato a rivoluzionare la politica italiana e ha sempre avuto una visione coerente, Grillo. Piaccia o meno? Pensare che debba restare zitto, passivo, mentre Conte prende il timone e cambia le regole del gioco è assurdo. Anche perché l'abbiamo visto, molti di coloro che sono andati lì a votare e rappresentavano i cittadini nelle votazioni dell'Assemblea erano persone, alcune, non tutti naturalmente, ma alcune sono state intervistate, erano persone da poco, da quattro anni, da quando c'è Conte, dalla pandemia, che sono entrate nel Movimento. Dunque, persone, possiamo chiamarli infiltrati, perché dopo dieci anni, quindici anni non saranno ancora accorti che c'era il Movimento, se ne sono accorti adesso con Conte, ma forse, dunque, non hanno, non sanno nemmeno magari cos'era il Movimento qualche anno fa, probabilmente. Chi lo sa? E Travaglio, anziché criticare Conte per aver messo da parte il principio del doppio mandato e per aver messo da parte anche Grillo, preferisce colpire Grillo e non dice una parola invece su questa assurdità di togliere uno dei pilastri del Movimento 5 Stelle, che era il doppio mandato. Ecco, amici, qui c'è qualcosa che non torna. Sapete qual è il punto più ironico? Travaglio dice che Grillo si comporta come un bambino, che non toccando palla si porta via il pallone. Beh, forse è vero, ma se permettete, quel pallone è suo. Grillo il Movimento lo ha creato, lo ha fatto crescere, lo ha reso rilevante. Conte invece è arrivato per ultimo come ospite, si è seduto comodo al tavolo, ora non si può pretendere che il fondatore stia lì a guardare in silenzio mentre gli smontano casa, pezzo per pezzo. Travaglio parla di fenomeno senile. Ora lasciamo perdere l'eleganza del termine, che dire Marco complimenti per la sensibilità, ma qui c'è un tema più grande. Perché dipingere Grillo come un vecchio rincoglionito come se non fosse più in grado di capire cosa accade? Forse perché è più facile delegittimare una figura storica che affrontarla nel merito delle sue idee. Certo Grillo è divisivo, fa arrabbiare, è una mina vagante, ma è proprio questo che lo rende un gigante. Travaglio dice che Grillo ha perso lucidità, ma chi lo stabilisce? I giornalisti, il pubblico, il Movimento. Grillo è un personaggio che ha sempre saputo stare sopra le righe, provocare e far riflettere. E' uno che quando parla, magari ti fa ridere, arrabbiare o discutere, ma di certo non ti lascia indifferente. E se questo è perdere lucidità, allora, amici, forse dobbiamo rivedere il concetto di lucidità stessa o di senilità. E qui, cari ascoltatori, veniamo a noi. Noi non siamo giornalisti, noi non siamo superpartes. Noi abbiamo scelto di prendere una posizione chiara, coerente, con il Movimento delle Origini. Quello che Grillo ha costruito è che qualcuno, sì, Conte, parliamo di te, sta cercando di trasformare in qualcosa di diverso. Forse lo ha già fatto. Travaglio con tutto il rispetto che abbiamo per la sua maestria, la sua carriera, il suo giornalismo. Grillo oggi non fa solo giornalismo, ma fa propaganda per Conte. Ed è una propaganda che strizza l'occhio a Conte e non certo alla verità. E allora concludiamo con un pensiero. Grillo non sarà perfetto, ma è sempre stato autentico. E in un mondo politico dove tutti indossano maschere o grandi sorrisi, come Conte, forse un po' di autenticità, anche se ruvida, anche se scomoda, è proprio ciò di cui abbiamo ancora, soprattutto ora, forse, bisogno. Cosa ne pensate? Scriveteci, mandateci i vostri commenti e continuiamo a discuterne insieme qui su Radio Puggino Nero. Al prossimo episodio.